Vito Bonsignore, Lupi, c'è un asse forte che impedisce la razionalità a favore del profitto illecito. Come sta venendo fuori dalle inchieste, tra l'altro, nelle intercettazioni, salta fuori per bocca proprio di Claudio Minutillo come proprio l'ortemestre fosse nelle mire di tutte le clique venete, non solo perché poi appunto chi guida l'accordata proponente che si aggiudicherà senza dubbio l'opera è proprio la Jeffy Polding di Vito Bonsignore. Allora, Vito Bonsignore è una vecchia conoscenza, nel senso che era un ex DC, già inquisito e condannato per corruzione a due anni con Tangentopoli I, poi è passato in Forza d'Italia e è stato la loro parlamentare e adesso fa parte dell'NCD, dello stesso partito di Lupi e di Alfano. Va sottolineato che nell'accordata che sta portando avanti quest'opera, la principale e principale ente finanziatore è la Carige, la Banca Popolare di Genova che da giugno o luglio, adesso non mi ricordo soltamente la data, è sotto i riflettori per un grosso scandalo che ha coinvolto i vertici di questo istituto, in particolare Berneschi che è stato il patron, come dire, di questa banca e che è tuttora in galera. Bene, Berneschi è la Presidente della Carige ma anche Presidente della Iglia, dell'Infrastruttura di Lavoro d'Italia Autostrade che è una società satellite della Holding di Bonsignore e l'amministratore delegato della stessa Iglia è tale Gioacchino Albanese, ex piduista dell'orgia massonica P2. Quindi voglio dire, abbiamo tutti i presupposti per avere un altro scandalo a Mose ma moltiplicato per 10 questa volta, perché io ricordo che il Mose in partenza era preventivato per un costo di un miliardo e mezzo. Siamo arrivati a 6 miliardi per quanto riguarda l'opera, più altri 3 miliardi che fa 9 per quanto riguarda le opere complementari fatti. Io naturalmente come rappresentante di un'associazione di reclutatori sono assolutamente contrario a un'opera che prevederebbe nel suo progetto preliminare la distruzione di circa 300-400 ettari in zona, solo nella zona del Veneziano, per cui è ovvio che non siamo assolutamente contenti del progetto del genere. Noi già nell'OM scorso abbiamo fatto una manifestazione lungo la Romea proprio contro il progetto della Orte Mestre, proponendo però anche delle alternative, per cui proprio la messa in sicurezza dell'attuale Romea, lo spazio c'è, viene costato decisamente molto meno e l'alternativa era quella per i trasporti, soprattutto di grossi camion, la terza corsiera sulla Padova Bologna piuttosto, cioè l'autostrada già esiste, l'impatto ambientale sarebbe decisamente minore e non c'era bisogno assolutamente di creare un'opera. Siamo già sei sindaci che hanno votato l'ordine del giorno che rigetta completamente il progetto, quindi niente di nimbi come si usa dire, cioè non una questione che riguardi strettamente il comune di appartenenza del sindaco in questione, ma che rigetta completamente sulla base dell'inutilità dell'opera, rigetta completamente il progetto Orte Mestre. Il sindaco di Dolo ha anche recentemente scritto ai propri omologhi dei 46 comuni che verranno investiti da questa autostrada chiedendo di prendere posizione. Il fronte dell'opposizione è davvero trasversale e questo dovrebbe dire molto anche all'opinione pubblica. Grazie al decreto Sbanca Italia viene fuori per l'ennesima volta come la bugia, perché è una bugia molto molto grande del fatto che la Romea venisse messa anche in sicurezza oltre a questa autostrada, è ben evidente che non è così. Quindi chi dice sempre o chi porta avanti sempre la questione che la Romea verrà messa in sicurezza, qui abbiamo la dimostrazione, l'ennesima dimostrazione, che in realtà risorse per la messa in sicurezza di questa strada molto pericolosa non sono e non verranno messe a disposizione. Un punto di vista proprio questo decreto su Blocca Italia, con questo regalo che ci ha lasciato, dimostra ancora una volta dal mio punto di vista la miopia di chi ci governa, perché continuiamo a insistere sulle solite cose, non si riesce a cambiare marcia, non si riesce a avere un disegno per questo paese che sia diverso, non possiamo continuare a fare gli stessi sbagli e pretendere di venire fuori da una crisi strutturale come quella che abbiamo facendo sempre le stesse cose. Oramai le strade ci sono, facciamo funzionare bene quelle che ci sono come abbiamo detto tutti, la Romea mettiamola in sicurezza, qui è il miliardo e otto che regaliamo alle imprese, utilizziamolo e forse ne basta anche molto meno per mettere in sicurezza quello che abbiamo e magari andiamo a dare dei contributi su qualcosa che può veramente sbloccare il nostro paese, dare una marcia in più alla nostra economia. a proposito vi do anche questo prospetto che è tratto dalla relazione illustrativa al PEF, quindi è un piano economico finanziario, quindi è un documento dei proponenti dove risulta assolutamente evidente l'insostenibilità, nemmeno grazie ai trucchi finanziari, l'insostenibilità economico finanziaria di quest'opera che nella migliore delle ipotesi nel 2033 prevede un traffico medio giornaliero di circa 48 mila veicoli che sono veicoli equivalenti rispetto a un dato medio ISCAT di 60 mila veicoli che rispetto alle grosse arterie autostradali italiane vediamo bene che è un dato assolutamente ridicolo. Quindi nella previsione stessa dei proponenti di questa cosa non ha modo, non ha alcun modo di stare in piedi.